Ciao, io sono Tommaso e oggi parliamo di nuovo di keyframes. Dico di nuovo perché ne avevamo già parlato qui su questo video, ma era riguardante solo la sezione dedicata alla pagina edit. Oggi invece ho intenzione di fare due chiacchiere con voi riguardanti i keyframes, perché me li avete chiesti, anche nella sezione della pagina color, perché c'è una leggera differenza nella gestione dei keyframes, che non sono così facili da trovare. Nella pagina color come nella pagina edit. Quindi bando alle ciance e andiamo su Da Vinci. Eccoci qui, ci spostiamo immediatamente nella pagina color. Allora vogliamo andare a creare una gradazione che parta magari da questo punto e arrivi a questo punto. Quindi un qualcosa che diventi morbidamente più colorato, diventi, si colori sempre di più. Quindi la soluzione per ottenere una situazione del genere è andare all'inizio della nostra clip, perché la nostra clip sarà questa, vedete. Quindi dall'inizio deve essere in bianco e nero, diciamo flat, non in bianco e nero, ma flat per ora, perché la nostra ripresa in S-Log era questa. E la vogliamo far diventare a colori. Prendiamo i nostri keyframes. Prima di tutto entriamo nel pannello key, qui sotto, questo. Se avete una versione più vecchia di Da Vinci Resolve sarà fatto a forma di chiave, questo pannello. E vedete che abbiamo la possibilità di gestire i key output, quindi il gain. Se io tiro il gain, vedete che lui sale e scende, cioè mi dà la percentuale praticamente di opacità della clip, dell'utilizzo della clip. Cliccando due volte andrò ad azzerarla. Perfetto, per partire voglio partire da zero in questo caso e voglio dargli un keyframes. Vi ricordate che nell'altro tutorial che avete visto qui sopra c'era la possibilità di inserire dei piccoli diamantini qui a fianco. Su color non si trova qui, ma abbiamo una sezione dedicata proprio ai keyframes, che è questa, dove possiamo, andando a pigiare sopra, attivare la sezione appunto dei nostri keyframes. Che si suddivide in maniera differente, corrector 1 e corrector 2 e poi sizing. Come funziona? Funziona che il corrector 1 è il nodo di correzione numero 1. Il corrector 2 è il nodo di correzione numero 2. Quindi noi andremo a lavorare nel nodo di correzione numero 2 dicendogli di avviare il primo keyframe da qui. Voglio appunto un gain minimo. E vedete che mi ha attivato il primo keyframe. Poi mi sposto avanti, fino a qui magari, e qui gli do un keyframe ulteriore, maggiore. Magari mi sposto a 1. Ok. Più o meno 1. Vedete che ha creato questo keyframe e questa, diciamo, transizione, tra virgolette. Se io adesso ritorno all'inizio della mia clip e gli do play, ecco qui che diventa colorata la mia clip. La stessa cosa si può fare se volessimo, ad esempio, che ne so, magari lo facciamo su un'altra clip, su questa. Vogliamo partire dal bianco e nero completo e vogliamo poi spostarci alla colorazione. Andremo a dargli il nostro keyframe all'inizio del clip, in cui andremo a desaturare completamente la nostra clip. Vedete che ho desaturato, ho messo la saturazione a zero qui in basso, ho spostato la mia clip, la mia freccina per arrivare con la saturazione a zero, e la mia clip è diventata completamente in bianco e nero. E qui, infatti, abbiamo il primo keyframe. E voglio arrivare a metà del clip e voglio che la mia saturazione ritorni al valore normale, naturale, facendo doppio clic su saturation, oppure scrivendo 50 qui. Vedete che si è creato il mio keyframe anche in questo caso. E partendo da qui, ecco la mia clip che da bianca e nera diventa a colori. Avete visto? È più semplice farlo che dirlo da questo punto di vista. Tutto quello che trovate all'interno anche di questo pannello può essere keyframeato se si trova all'interno del corrector qui. Quindi linear, circular, polygon win, sono tutte le windows. Possiamo anche andare a cambiare la forma delle power windows. Possiamo fare un sacco di cose. Ovviamente questo è un piccolo tutorial dedicato ai keyframes. Se avete piacere di approfondire questo argomento, oltre a tutti i tutorial che trovate qui sopra all'interno della playlist, sapete che qui sotto c'è il corso completo di DaVinci Resolve che vi permetterà di imparare dalla A alla Z tutto quello che vi sto insegnando sia qui nelle pillole ma in maniera molto più approfondita. Perché si trattano di 4 ore intensive di corsi che vi potete scaricare sul vostro computer, sul vostro tablet, sul vostro smartphone, dove meglio preferite. Se vi è piaciuto il video cliccate un bel mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti ragazzi, accendete la campanellina per rimanere connessi su tutti i prossimi video che verranno fuori nelle prossime settimane. Ricordatevi che gli appuntamenti con me durante la settimana sono il martedì con la diretta dove rispondo alle vostre domande alle 6 e mezzo di pomeriggio, il mercoledì con le videoproduzioni e le recensioni, il giovedì con questi tutorial pillole di DaVinci Resolve. A me non resta che salutarvi e dirvi che ci vediamo con il prossimo video. Ciao!